Vimmat House! Vimmat House! Ezzava a nessuna vuolier Vimmat House! Equipa svolterna, so che non ci so accorna Vimmat House! Vessava a nessuna vuolier Vimmat House! Vive Abita a nessun soñino e ads lo che agol I capoe, os tomo boe Duell's a cold kill. Ma ora non è tutto il resto con il resto, ma questo è tutto. Il culo per i 10 anni, è vero? È difficile. Oggi, è difficile. Il culo, è difficile da le culo, ma questo è il culo per i 10 anni. Ecco, è un bel risultato, non è possibile vedere il culo del culo. Hubo un problema. Adesso non è riuscito, così non è riuscito. Mi piace questo... ...dò io vorrei qui qui qui. Come qui. È il tuo mio figlio o di queste. Questo mi è qualcosa... ...el più lato. Lato quando arriva il lato... ...o vi soco qui, ...el più lato. Hai ricordi questi... ...mahuni... ...ma quando arriva il macchino e il crompe. Ti ci senti di oggi, ma stai! ma allora, come attacca! Ma bene è molto molino, ma molto che mi piaceva. C 120 mille della carne ma une, non ha sc Chora di croandon. Ma cura la città. A me piace. ень di quel punto e qualcosa che mi piaceva, e un cavallo sprecherò, all'incha un Peach 그럼 perché viveva danno il duso. Che quel col è l'weder Massimo di девia, e far la te prendere quella venta di 41 giorni. Lei di Davide Davide con una madre con una zllavere che conosco. Mi dice che dice che dice che facciamo una zona vicino che prendono. Davide Davide e una buota. E mamma Rahmet dice che è possibile così o meno. E che è sua nascita? No, non è nascita. Non è steduto a un po' sito. Non si fa molto lì da sua casa. Sì, è un po' di più di 10 km da l'isola. Quando si diceva che non si stava in più, non si stava in più, non si stava in più. Ma diceva che la mia moglie è così razzata, ma che non si stava in più. Noi, noi, siamo mi, sono tutti i ragazzi, la mia piazza è fuoco, fuoco, non si stava in più. Noi, noi, non sono ancora più. Un po' di più di Pavlati. è stato molto difficile da mettere perché sono un po' che non sono scopi questo voglio dire e tessi che sono molto forte sono molto pesante non so che il primo da bere ma sempre un po' un po' un po' un po' un po' a sai un po' un po' un po' un po' un po' un po' non so non so ma prima non è stato i svegli qui a mi chiede a mi chiede a una vicina Kisela che si chiede Lug ma c'è una planta di malina e noi come i mali riletto e noi come i bambini andiamo a planta di malina per la parte e che è stato molto bello prima cosa hai è sicuramente più difficile quando si metti. Secondo cosa, quando i d'aggiaggi, è un grande giorno, si fanno bene, non lo so, non lo so, è stato proprio il momento, poi inizia a te, che si metti 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 a te, ma che è stato il futuro è bene, ma che dovresti essere priezitato ma dovresti essere priezitato perché non mi paremmo vedi ma non mi paremmo ma non mi paremmo non mi paremmo che se sai, oglide? ma glide è più velo ma che cebbi ma che ci si vedi ma la scena, quando non è tempo ma questo è stato è così. Allora, vorrei farvi vedere questo. Berba jagoda. Questo si chiede quando tu vedi lazzini. Pone jagoda. Non so cosa significa. Cosa è lazzina? Non so. Cosa è lazzina? Cosa cosa? Cosa? Non, lazzina ti è come una parte... Prostare. Se chiede lazzina, in lazzini si chiede la jagoda. E' anche la baronica, se ti chiede. E' anche la prossima. E' anche se non si chiede. E' un'azienda. Anche. E' un'aventura, ma che ancora è l'aventura? La cosa è un problema? Gli varii di vivi, di vivi, di vivi, anche di vivi. Per ora è avanti. Per noi è un'aventura quando è usato la Procosco. sull'esposito di che è stato un po' di qua, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, quindi i mobitoli abbiamo pieno di acquettare, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, poi la sfera di più all'estero è in un po' di più, è un po' di più, è un po' di più. è stato bene c'è un lepote c'è una pari della maniera quindi quando siamo fatti è stato 75 per esempio che siamo all'estrata Cod' niente abbiamo provato una chassata. Prende la chassata, le mani ha piaciuto la chassata, da le mani ha pesciato. E' un po' così è stato molto diverso. È venuto in casa. E tu, tu come, c'è un po' di vetri che si chiede, c'è un po' di divini, c'è un po' di vivacità, c'è un po' di vivacità, c'è un po' di vivacità. Sì, è speciale, un po' gucci, e poi, nel Prokoschi, credo che durante il giorno di 4 giorni sono diventati. Quindi, è piaciuto avere l'impianto, diciamo, da l'impianto, da l'impianto. E poi, come ti arrivi? Quando ti arrivi, non ci vuole. E così, non ci vuole. E così, non ci vuole. E così, non ci vuole. E questo è quello che mi piace, tutto domani, è molto utile. E questo è un pozzo. E poi ci sono rossi. Non puoi vivere niente. È. 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 Io sono due noci o una? Una noce. Semmo... Ora abbiamo proprio un tavo 3 o 4 ore. Non so ne come, come, non so non so come. O quanto sono che il che può pieno di auto. Poi in auto, sono pieno. Ma sai cosa, è un grande grande progete. Tutti trebano tutti da vivere. Anche anche i i d'arri, che sono più piccoli, se non sono più piccoli, di tutti i 19 anni di rimanere per vivere il tuo malo ciò è le dica del tuo riesgo è tutto il espagno dei dettagli potete guardare il tuo deserto che è andato è lo mario una volta quelli non è l'anahirà oggi è stato fatto per vederare quando si trovate il giovane nelindale e riavano quando i Breeze e non è bene così l'anahirà buona ar đầu e voi lo country anato un anno si è stato è sempre allora è così certo sì sinai che si posioni che TV non è da malo iza dalle da se malo opusti to puštanje to nemmas nikadje brigi ni pametni niti razmišljaš nilcana ja nemmas nemmas mišlja al kada odiš na odmor normal kada odiš to me sad kao jedan brde se brežuljak i kao gore mos malo signala upat i onda tu raje odelde napatao malo mreža al teško to tako da je to avantura da nas kodati avantura otići da bereš vronci jest na vranici moraš malo pesaka ili to je avantura da malo teške idiš a čeka ima onaj jedan prostor kad smo išli na prokoško jezero što ti je moj teta govorio ovaj djeda odemo znaš ono negdje se malo popniješ i tamo kaže da je dobar zrak nema jedan onaj sve okolo onaj bor borovina samo uđeš unutra unutra ti je ona vrisina tako zna na vrisina gdje zvrisnije ta raste brunca i uđeš tu to su najveći kao ti da da čisti čisti zrak či zrak i onda lijepo otići tamo sjesti usac što bi se rekao to slovenci prvi onaj otvrli to mjesto a tam odiš ko soba neka osoba jest mhm to isto interesantno to ako bog da obavezno ali ako idete na prokoško jezero i sad imate neko novi auto onda baš to i nije poželjno super idu džipovi super ide naša fabija može proći možda sam malo par puta više puta sam malo ovaj pod onaj dotako je malo ništa strašno idemo da gdje mhm i onda džipovi su idealni i ja mislim da ima prevoz prevoz iz vojnice ima uvijek mhm tako da je to pos može onda ljeti znaš i svježina onog zraka i sve sve super ali ima veće divljine nego še nema nismo išli u razno razne kao divljina osveti maš struju i kolbe na stranu pravu ambijent ja nema oni ono ništa ništa mimo elemena cigla šta ja znam ono zina sve su puće brna mhm divno jesmo mi nasijelo jelde znaš da smo sjelili jesmo malo kad izadje šta me čilja ono smoli iza pa ti znaš ono nije ti jednostavno ja bili su nekim ne znam sad odakle su ali su neki momci ja mislim bili u pitanju i znam da su ono naložili kao neku vatru i muziku pustili sjećaš se kao ogorska vatra ne da malo naloži nisu puno nisu puno nisu puno malo nešto bilo znam ja mislim da je tu i ognjište ma ja ko ti ne držio i baš ano se zabavljali fina ma je to kao bude raje od svakle puno budeku pravo nasijelje to gore bude jes ma to je ne može biti boni vratite se u ta neka prijašnja vremena i onda je to vaš kur pa neste sebi batjer ili fenjer da imate jes e pa znaš kad se kako se prije islo nasijelo fenjer s fenjerom šta će znam šta je fenjer znam pa kako nič znam šta je fenjer a su ovo su mi tikpice ipa tličan ja znam krompi šta je tikpice ja znam šta je krompi znam ali šta isto boja mhm pa zutno to je ali smo ovu uturili tavu bogami gladni smo jako bili mhm ništo ništo šta smo gladni bili ali ukusne mhm odlična je predobra mhm selo malo miso ovo je hljeba usno ovo miši da sam nekri ako bog da u najljeto nekad planiram otići isto i u visoko pa živjeti nekoliko dana blizu nam je tu a velika je bašta mislim ima bašti da čovjek malo uživa da čovjek malo uživa naš jer leti leti bude ono stanu pretežno bude vruće pa lina a u onoj kući u visokom bude toliko dobar neki ugođaj pa ono stormu ja mislim ono znaš šta je ono znaš šta je ono znaš šta je pojenta one kuće pojenta ti one kuće isto pravi izvor izvrska voda može da ima oko pet stepeni i ono kad piješ leti o kaže je sladna a zimi kad piješ kaže je topla a to je prava izvrska voda ona ima uvijek isto u temperatur zato je kuća u visokom ona uvijek ima istu temperatur istu temperaturima istu temperaturima zimi kaže hladno a ljeti ono i još daje kakvog bazena a ljeti pa ja ne ono istu ta temperatura pa istu ta temperatura onaj iznam se ljeti kakvog bazenčića onog napuhanje hm a če stati je ma veliko ma da naprijem na krovu bazenju to bi dobro bilo ja sam uvijek zamišljala kao mala naš na ispred prostora ona je kao kocka ja sam tu kontala tu ćemo mi napraviti neki zatvoreni bazen da se ja tu mogu brčkati iz i miljeć ali da će biti savu staklu da se foliramo ja ne budiš glavna pa ješ da će još moš hrm 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 ovo je više nego dobro mmm stvarno da smo još bamije stavili još bi bilo bolje činiti jusa odačno je i to je to uživali smo u umo obraku za desetku nadam se da vam se svidio ovaj video se volete like, share, commentate e ringrazio grazie a voi